Le sale della Galleria Borghese, con la loro straordinaria raccolta di sculture, accolgono Guido Reni e la sua pittura più monumentale. Subito all'ingresso, quattro grandi pale d'altare riempiono l'immenso salone e poi i dipinti dialogano con Bernini, Canova e ovviamente anche con Caravaggio. Siamo all'interno della mostra Guido Reni a Roma, il Sacro e la Natura, curata dalla direttrice della Galleria Borghese, Francesca Cappelletti. Certamente la figura di quest'artista esce molto intensificata, sia nel suo rapporto con l'ambiente romano che nella sua meditazione su alcuni artisti e anche opere che certamente a Roma non si potevano non vedere. A Roma c'è Caravaggio, a Roma ci sono i suoi compagni bolognesi con cui aveva già fatto un pezzo di strada prima di arrivare a Roma. Se la prima parte dell'esposizione gioca con la monumentalità e i riferimenti scultori della pittura di Reni, con esiti di grande impatto, al primo piano del Museo Romano ci si concentra invece sull'idea del paesaggio, partendo dall'ultimo acquisto della collezione, la danza campestra del 1605, che era stato dato per disperso ed è poi ricomparso sul mercato antiquario londinese nel 2008. E dal 2020 ha ritrovato il proprio posto la Galleria Borghese. Questo è un dipinto singolare per Guido Reni, è un dipinto importantissimo perché dà consistenza ad un altro aspetto della sua attività romana, che è proprio quella di confrontarsi con il paesaggio. La pittura di paesaggio a Roma in questo momento è una fiammata incredibile di novità e anche lì di confronto fra culture differenti, la cultura dei pittori fiamminghi del nord e tutta la tradizione bolognese. Nel complesso, i due livelli della mostra, che a lungo sembrano muoversi su binari paralleli, a un certo punto convergono verso l'idea di una lezione artistica ricca e articolata, che segna la transizione dal Cinquecento al Seicento e si colloca, come dimostra per esempio il confronto con Caravaggio nella crocifissione di San Pietro, nel pieno di un'epoca che ha segnato, anche in maniera conflittuale, la storia dell'arte italiana. Grazie.